Signori buonasera e bentornati Nello teniamo una fama incredibile ma ora stiamo tornando nel cinema e abbiamo avuto a vedere un bello film Ah, e che avete visto? Un unico film fantasy che hanno tutti i personaggi blu Ah, e allora Avatar? No, no, i puff I puff? All'età posto i puff? Infatti, questo si ha visto i puff e invece mi sono visto un bel poliziesco come una giornata in sala però questo non ha capito niente Eh? E mi sono salvanuto perché poi veniva il poliziesco a Rousseff poi mi fa venire i puff poi veniva il poliziesco il poliziesco è il puff il poliziesco è il puff il poliziesco è il puff l'unica cosa che ci ha capito è che il camello ha avuto 30 anni Allora, che volete mangiare? Benissimo Nello, allora ci porti due primi ma ci metto due secondi però Me lo metto io, subito arriva Eccolo lì Ma che fai? Io ho messo il culo con un po' di pasta in giro Eh signore, volevano due primi ma ci erano a mettere due secondi e ci ha messo il pul non potevo mai mettere il pul Pianello Ma fai sempre che lo fai ma va bene, va ragazzi Hai capito? C'è questo nonno Ma perché? Che è successo? La figlia la prima parola che ha detto nonno e chi ne va a morire proprio nonno E perché a me? Mio figlio la prima parola che va a dire zia la sera non va a morire la sera Allora è meglio un panno che un po' Permettete no l'Otto Mio figlio l'Otto l'Otto Grazie a tutti.